21 agosto Ariete La vostra indole un po' guerriera verrà stimolata da situazioni che richiedono competizione e decisione, sarete determinati ad affermarvi. Sappiate comunque arginare l'eccesso di energia, il rischio è quello di procurare qualche danno. Toro La luna in opposizione rannuvola il vostro cielo, orientandovi verso emozioni poco serene e un ripiegamento interiore. Contrastate questa tendenza con una logica razionale che vi faccia notare ed apprezzare tutto ciò che vi circonda. Gemelli Il quadro astrale per voi è incentrato su alcuni punti, una situazione affettiva e sentimentale molto buona e stimolante, una buona carica energetica, ma poca lucidità mentale e un percorso più faticoso senza colpi di fortuna gratuiti. Cancro La costruzione metodica e lenta dei vostri progetti darà buoni frutti, che non potrete magari gustare in tempi brevi. Siate tenaci e non chiudetevi nel vittimismo, che potrebbe togliervi la determinazione giusta per progredire. Leone Una vitalità più contenuta per voi, il sole in angolatura dissonante a Saturno, offusca le energie ma stabilizza alcune situazioni. Un piccolo cedimento sul fronte dell'ottimismo potrebbe causare alcuni ripensamenti e un rimpianto per qualcosa che avete perduto. Vergine Le percezioni emotive sono positive. La luna favorevole alleggerisce il vostro umore e accompagna la realizzazione di alcune piccole aspirazioni. Siate fiduciosi e portate avanti le iniziative che avete nel cuore. La fortuna vi assisterà. Bilancia È ancora il settore affettivo e sentimentale ad essere in primo piano. L'armonia con il partner è assicurata e chi è single potrà contare su nuove conquiste. Sarete circondati da una bella atmosfera di affetto e solidarietà, anche nelle amicizie. Scorpione La luna nel segno amplifica le percezioni emotive. Il vostro intuito si fa più profondo e vivrete a pelle sensazioni stimolanti. Bene l'avanzamento dei vostri progetti, un po' più contrastate le faccende amorose che risentono di qualche vuoto. Sagittario Mercurio Mercurio in aspetto disarmonico potrebbe causare qualche impedimento negli spostamenti, nei viaggi, nelle varie trattative. Dovrete moderare l'impazienza e accettare ritmi un po' più lenti, sia a lungo termine che nelle cose quotidiane. Capricorno Luna armonica, Giove e Mercurio favorevoli, fanno brillare il vostro cielo e consentono di spiccare il volo verso mete ambiziose. Le percezioni emotive sono un valido aiuto per rinnovare un entusiasmo che permette un approccio alla realtà positivo. Acquario Giornata un po' inconcludente L'umore non è dei migliori e tutto procede con qualche difficoltà. Anche l'amore non offre molte soddisfazioni. L'unica cosa che potete fare è non avere al momento alcuna aspettativa, per assestare le emozioni e la mente su dimensioni neutre. Pesci La luna positiva smorza un andamento un po' rallentato, colora gli stati d'animo e rende più piacevole la giornata. I vostri progetti si fanno un po' nebulosi, dovrete capire bene cosa davvero desiderate e dove volete arrivare. Buone stelle Buone stelle